Ciao a tutti e benvenuti su Macerix Tutorial. Oggi voglio farvi vedere un'applicazione che si chiama PDF Tools e il suo uso in particolare per inserire una password su un file PDF. Lo apriamo. Quindi se avete un file che non volete venga diffuso ma visualizzato solo da alcune persone scegliete Lock PDF selezionate il file, uno qualsiasi Waiting for Godot mettete la password, prova ripetete la password, prova cliccate sul visto piegherà qualche istante e il file è creato se voi ci cliccate sopra per aprirlo qualsiasi applicazione con cui lo aprite vi chiederà password per il documento comunicate naturalmente la password solo a chi effettivamente deve aprirlo prova ok il file si apre spero che il video sia utile lasciate un like condividete mi raccomando iscrivetevi al canale ciao a tutti da Macerix qui è